Niccolò Volpe, una partita iniziata in modo molto agevole per voi e poi diventata più complicata. Sì, abbiamo iniziato molto bene per uno set, abbiamo giocato una buona pallavolo. Poi secondo e terzo set, loro sono saliti molto in difesa, hanno iniziato a riprendere tanto e noi abbiamo sbagliato veramente tanto. Non dobbiamo riprendere da questi due set, gli ultimi due set che abbiamo giocato perché abbiamo commesso tanti errori, abbiamo in battuta, a muro, in attacco, proprio sbagliato tanto però contenti per il risultato 3-0. Domani c'è la sfida decisiva di questo torneo di qualificazione e ritroverete di nuovo la Bulgaria? Sì, domani di nuovo contro la Bulgaria, una battaglia perché sono una delle tre squadre più forti al mondo quindi sono veramente tosti e domani servirà tutta la grinta possibile da parte nostra e tutto il tifo del pezzetto per cercare di vincere. Grazie.